Sono Giulio Marsala, sono un imprenditore del web, quindi gestisco, sono partner in diversi business, circa una dozzina e i miei business principali sono un business di infoprodotti, dove quindi vendo informazione digitale su internet. Il mio sito di riferimento è acquisireclienti.com, dove insegniamo proprio agli imprenditori come acquisire clienti per la loro azienda e poi ho svariati altri siti. Diciamo che in questo momento quasi tutto il mio reddito proviene da business online o business che si appoggiano all'online, come per esempio la lead generation, la vendita di contatti commerciali per aziende.